L'identità e la differenza si implicano vicendevolmente, e la coscienza è il punto focale dove avviene il processo di identificazione delle cose. Questo consente di dire che, preso un qualsiasi oggetto, esso permane come un che di sostanziale e riconoscibile, come un sé in mezzo agli altri oggetti, nonostante il mutare dei suoi attributi e il variare delle condizioni. Perché, accanto ai vari oggetti che si manifestano alla coscienza, questa lo unifica e lo completa in un dato modo, identificandolo, rendendolo comprensibile, coerente e sensato al variare dei suoi accidenti. Cosicché noi possiamo dire che lo stesso oggetto è nuovo e poi diventa vecchio, lo stesso albero è florido e poi malato, lo stesso animale è giovane e poi vecchio, lo stesso uomo è adolescente e poi anziano, eccetera. Severino, al contrario, bypassando la coscienza animale, dove tutta l'esperienza si focalizza come esperienza immediata, la quale consente di fare il ragionamento testè fatto, introduce una supercoscienza cosmica e incondizionata, nella quale viene assorbita la coscienza animale, ossia la nostra insieme all'immediato dell'esperienza. In questo modo, per garantire l'identità degli oggetti, che deve porsi alla minima variazione, Severino precipita in una differenziazione infinita, incontrollata e scriteriata, sbembrando completamente l'unità della coscienza soggettiva e svuotando il modo in cui essa si rappresenta gli oggetti e la totalità del mondo. Così, uno stesso oggetto, per Severino, dovendo per necessità subire variazioni infinite, resta se stesso solo nei suoi momenti infiniti, cioè nella pratica mai, essendo l'infinità un'astrazione. È chiaro che nel suo ragionamento ogni oggetto non sarà mai se stesso, allo stesso modo che Achille non raggiungerà mai la tartaruga, dovendo lo spazio dividersi all'infinito. Queste sono le assurdità in cui il professore sconfina. Severino pensa di poter scorgere e comprendere il funzionamento della realtà dall'esterno della sua coscienza animale, con la quale si interroga, fornendone per di più una descrizione completamente oggettiva, autotrasparente ed esattissima. E quindi, ponendosi da questa prospettiva, applica le categorie dell'eterno atemporale, che nessuno sa cosa siano, al temporale dentro il quale egli ragiona, pensando che il piano temporale sia, per sua natura, simultaneamente eterno. Quindi, solo da questo punto di vista, secondo il professore, c'è la leteia incontrovertibile, ossia la verità immutabile, mentre al di fuori di ciò c'è la doxa infondata, ossia l'interpretazione meramente soggettiva. Il nostro mondo esperienziale, cioè quello che si presenta immediatamente alla nostra coscienza, dal quale bisogna partire per fare filosofia, per Severino è indegno di essere preso in considerazione, e ciò imbarba a tutta la tradizione filosofica e soprattutto a Kant e a Schopenhauer. Questo, se vogliamo fare un paragone con la fisica, è come se qualcuno, volendo fare fisica, ignorasse la relatività di Einstein e continuasse tranquillamente a teorizzare il mondo con la visione aristotelica e tolemaica. Ora, detto per inciso, ciò non sorprende in questa epoca. Abbiamo scoperto che la Terra è tonda, ed ora sono rispuntati i terrapiattisti. Così, in filosofia, abbiamo scoperto le categorie mentali, che ci fanno conoscere il fenomeno, e non il noumeno. E ora spunta Severino, che ci dice che il noumeno è conoscibile, perché esiste una coscienza infinita. In conclusione, chi vuole fare seriamente filosofia la cercherà in altre sedi. Gli altri ripeteranno le frasi ad effetto scovate nei libri di Severino. Grazie.